La Liguria sostiene i balneari a Chiavari durante un incontro con i comuni della riviera di Levante e l'assessore regionale Marco Scaiola conferma l'impegno per una proroga alla normativa europea. Il nuovo lungo porto di Chiavari porta un segno per ricordare un grande testimone della fede, il comune ha intitolato la passeggiata Monsignor Luigi Giussani, fondatore di Comunione Liberazione. Sostenere l'impresa sociale facendo squadra, giocando la propria credibilità e comunicando ciò che si fa, laboratorio di aggiornamento al consorzio tassano di Casarza Ligure. Alla barca rolata di Sestri Levante grande spettacolo con allestimenti inediti, raccolti fondi per l'associazione contro le sindrome atassiche. Buongiorno a tutti e ben ritrovati al TG13. La regione Liguria conferma l'impegno in prima linea a sostegno dei balneari che rischiano di vedere rimesse in palio tutte le concessioni demaniali a seguito del provvedimento europeo denominato direttiva Bolkenstein. L'assessore al demanio marittimo Marco Scaiola in un incontro in sala consigliare a Chiavari con i sindaci e i balneari ha ribadito le richieste sulle quali sarà pressato il governo. Sentiamo. Intanto a livello regionale voi avete già preso un provvedimento? Noi stiamo lavorando ad un provvedimento. Non dimentichiamo che la Bolkenstein è una normativa non di competenza regionale. Però noi siamo un po' critici nei confronti delle posizioni del governo perché abbiamo visto che per il momento non sono state prese nessuna decisione in particolare. Ieri sono passati due emendamenti che praticamente dicono semplicemente che il governo italiano deve fare una legge e finché la legge non verrà fatta ci sarà in atto questa proroga diciamo così delle concessioni di maniali. Ma noi non basta. Noi vogliamo che i balneari abbiano l'attenzione che meritano. In Italia ci sono 35.000 imprese, in Liguria ce ne sono circa poco meno di 3.000, si parla di migliaia di posti di lavoro, si parla di qualità di turismo e pretendiamo che il governo si assuma le proprie responsabilità. Ma noi come regione siamo pronti nel caso in cui il governo non faccia la sua parte a sostituirlo. E più precisamente a livello nazionale che cosa dovrebbe fare il governo? A che cosa puntate? Quale risultato? Noi puntiamo che il governo faccia una legge nazionale che mette in ordine il comparto e che soprattutto parli di una proroga delle concessioni di maniali per i prossimi 30 anni e che si mettono invece immediatamente a gara quelle spiagge che non hanno ancora concessioni di maniali. Ma su quelle dove ci sono investimenti, dove c'è una storia, c'è una gestione, non si può pensare di dare un colpo di spugna come vorrebbe fare l'Europa e cancellare la nostra storia. Non capiamo perché i nostri beni particolari dell'Italia debbano essere messi nel calderone europeo, mentre invece gli altri paesi europei, che sia la Germania, abbiamo visto cosa ha fatto l'Inghilterra, che sia la Francia o altri paesi, sono più bravi di noi nel tutelare le loro tipicità. I balneari per noi sono una tipicità, soprattutto per la Liguria la vogliamo tutelare. Sestri Levante è ancora alle prese con gli oneri per la chiusura della discarica comunale di Cadamatta, ma non può sostenerne i costi a causa di una norma introdotta di recente in materia di contabilità per quanto riguarda gli enti locali. Questo accade anche per quei comuni che sono riusciti ad accantonare una determinata somma proprio a questo scopo. In Liguria, oltre a Sestri Levante, anche Magliolo si trova nella stessa situazione. Per questo motivo ieri è stato approvato un apposito ordine del giorno nel corso del Consiglio regionale, teso a superare questo cavillo. Il documento aveva come primi firmatari Luca Garibaldi e Luigi De Vincenzi del Partito Democratico e Claudio Muzio di Forza Italia. È stato sottoscritto da consiglieri di tutti i gruppi e approvato all'unanimità. L'ordine del giorno impegna pertanto la Giunta a farsi parte attiva presso il Governo e il Parlamento per richiedere una modifica nel primo provvedimento utile. Ora parliamo della situazione meteo sulla nostra regione e in generale un po' su tutto il nord Italia perché ha atteso un peggioramento nelle prossime ore, in particolare da venerdì, anzi forse già dalla serata di giovedì. Cerchiamo di capirne di più con Daniele Lajosa del Centro Navi Meteo. Benvenuto. Sì, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Dunque era un po' che non ci sentivamo perché quest'estate sta proseguendo a gonfie vele con tempo stabile. Ma che cosa dobbiamo attenderci per le prossime ore? Sì, allora, diciamo tra oggi e domani il tempo resiste ancora con comunque una fase che continua ad essere soleggiata. Potrebbe esserci qualche addensamento dovuto appunto alla cosiddetta Maccaia, qualche lunga bassa, i tassi di umiltà sono elevati, quindi comunque fino a domani tutto regge, la stabilità regge. Ci può essere, come avete già anticipato, un cambiamento direi nella prima parte di venerdì con qualche stracico sul pomeriggio. Si tratta comunque di un break nel complesso abbastanza veloce. Ci possono essere dei temporali sul settore centrale della Liguria. Ancora un po' prematuro dare con certezza il coinvolgimento del Tigurio potrebbero essere solo dei semplici rovesci o delle piogge. Poi questo fronte comunque si allontana e in realtà poi la giornata di sabato e di domenica non è pregiudicata. Quindi sul weekend diciamo diamo un segnale positivo. Anzi, il passaggio poi di questa linea temporalesca pulirà un po' l'atmosfera, il cielo. Quindi torneremo su un regime un po' più asciutto con il cielo limpido. Ecco, non si tratta ancora di una rottura dell'estate che è un po' un'ipotesi che sta circolando in rete in queste ore. Non si tratta ancora della cosiddetta rottura dell'estate? No, io direi proprio di no. Sono temporali o eventuali rovesci estivi dovuti al passaggio di una debole perturbazione che quindi non porta un riflesso pesante sulle temperature. Ci potrà essere una diminuzione proprio nella giornata di venerdì, specialmente nei valori massimi, visto che il solleggiamento sarà disturbato dalle nubi e da qualche precipitazione. Ma poi tra sabato e domenica l'estate riparte tranquillamente. Quello che abbiamo visto sul medio e lungo termine, quindi va preso con le dovute precauzioni, con le molle, ci potrebbe essere invece un episodio più importante, quindi con una vera perturbazione di temporali più organizzati e anche un abbassamento delle temperature sul pre-feragosto. Però, ripeto, il condizionale d'obbligo bisogna poi risentirci per verificare questa evoluzione. Bene, grazie. Allora ci risentiremo per essere più precisi. Buon lavoro a Daniele Laiosa, previsore del centro Navi Meteo. Grazie. Grazie, un saluto a tutti. Ciao. Ora andiamo a Città del Vaticano, dove questa mattina Papa Francesco, dopo la pausa di luglio, ha ripreso le udienze generali. Incontrando i pellegrini, nell'aula Paolo VI ha svolto la sua catechesi sul viaggio apostolico che ha compiuto in Polonia, in occasione della giornata mondiale della gioventù, a 25 anni da quella storica celebrata a Cesto Cova poco dopo la caduta della Cortina di Ferro. In questi 25 anni, ha detto il Papa, è cambiata la Polonia, è cambiata l'Europa ed è cambiato il mondo. E questa GMG è diventata un segno profetico. La nuova generazione di giovani, eredi e continuatori del pellegrinaggio, iniziato da San Giovanni Paolo II, hanno dato la risposta alla sfida dell'oggi, hanno dato il segno di speranza. E questo segno si chiama fraternità. Perché proprio in questo mondo in guerra ci vuole fraternità, ci vuole vicinanza, dialogo e amicizia. E questo è il segno della speranza. Quando c'è fraternità, queste le parole del Papa, che ha ricordato anche Susanna, la ragazza vittima di meningite al ritorno dalla GMG, e ha spiegato quali sono stati i tre motivi del viaggio. I giovani, innanzitutto, e poi la misericordia, testimoniata nello sguardo amorevole di Maria, madre della Polonia, venerata al santuario di Jasnagora, e infine l'orizzonte del mondo, con la visita ad Auschwitz e Birkenau. E su questo sentiamo un ulteriore passaggio della riflessione del Papa. In questa memoria delle guerre e di tante ferite, di tanti dolori vissuti, anche ci sono tanti uomini e donne oggi che soffrono le guerre. Tanti fratelli e sorelle nostre. Guardando quella crudeltà in quel campo di concentramento, ho pensato subito alle crudeltà di oggi. che assomigliano. Non così concentrata come in quel posto, ma dappertutto il mondo. Questo mondo che è malato di crudeltà, di dolore, di guerra, di odio, di tristezza. E per questo sempre vi chiedo la preghiera che il Signore ci dia la pace. E Papa Francesco ha ricordato che domani si recherà nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola in occasione dell'ottavo centenario del perdono di Assisi che ricorreva ieri. Il Papa partirà con l'elicottero dal Vaticano alle 15, dopo una quarantina di minuti che arriverà a Santa Maria degli Angeli. Poi ci sarà un momento di preghiera silenziosa nella Porziuncola e la meditazione di Papa Francesco sul brano del Vangelo di San Matteo in cui Gesù dice a Pietro di perdonare le offese non fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Poi si recherà salutare i frati, ospiti dell'infermeria del convento. Infine, dal Sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli, il saluto ai fedeli presenti sulla piazza. Trasmetteremo l'intera visita domani pomeriggio su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 16. Andiamo sul sito di Radio Vaticana per vedere quello che è stato il messaggio finale dell'udienza generale del Papa di quest'oggi che Papa Francesco ha voluto rivolgere un saluto al popolo brasiliano e in particolare alla città di Rio de Janeiro che ospita gli atleti e gli appassionati di tutto il mondo in occasione delle Olimpiadi che inizieranno venerdì. In questo mondo che ha sete di pace, tolleranza e riconciliazione, il Papa ha auspicato che lo spirito dei giochi olimpici possa ispirare tutti, partecipanti e spettatori, a combattere la buona battaglia e terminare insieme la corsa desiderando conseguire come premio non una medaglia ma qualcosa di molto più prezioso la realizzazione di una civiltà in cui regna la solidarietà fondata sul riconoscimento che tutti siamo membri di un'unica famiglia umana, indipendentemente dalle differenze di cultura, colore della pelle o religione. Ora torniamo in diocesi e andiamo a Chiavari che ha intitolato il nuovo lungo porto accanto alla spiaggia recentemente inaugurata a Monsignor Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. Il nuovo lungo porto di Chiavari porta il nome del servo di dio Don Luigi Giussani, sacerdote di origine milanese fondatore di Comunione e Liberazione. Una scelta ha spiegato il sindaco Roberto Levaggi nella cerimonia di intitolazione motivata dalla testimonianza che Don Giussani ha portato anche a Chiavari con la sua stessa esistenza visitando più volte la città e sostenendo le comunità di CL che qui sono nate, portando con sé, grazie al carisma ricevuto opere di solidarietà ed iniziative culturali vive ancora oggi. Dio anche nei momenti più tragici dell'esistenza umana non ha mai lasciato l'uomo solo. La certezza di una compagnia e del mistero a me si fa presente attraverso dei volti. Il volto di un uomo che segna adesso questo punto interessantissimo di Chiavari. Lascia il segno alle persone che passeranno di qua e può lasciare una provocazione a tutti loro che credano o che non credano perché la vita di Don Giussani è stata una provocazione per tutti, molti li ha trascinati veramente alla fede, altri li ha incontrati come persone, come uomini, ha fatto una proposta ed ha accettato la loro libertà di non aderirvi. Nella cerimonia di intitolazione c'è stato spazio anche per alcuni canti della storia del movimento, due dei quali scritti dall'indimenticato Claudio Chieffo e interpretati dal figlio Benedetto. Allestita anche la mostra realizzata in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Don Giussani. Comunione e liberazione oggi è presente in 80 paesi del mondo. Da noi negli Stati Uniti sono nati tante comunità, comunità di gente che ha trovato nella vita che Don Giussani ha proposto una bellezza, un amore e poi anche un'energia che nasce dall'incontro con Dio fatto uomo. In me è suscitato una febbre di vita, direbbe lui, una vita molto più bella, molto più appassionata, dove qualsiasi cosa che succede o qualsiasi rapporto che nasce è una possibilità di andare oltre, sempre di entrare in dialogo con tutti, con tutto, di godersi molto più la vita. Il valore dell'impresa sociale che sostiene persone svantaggiate è molto elevato. Oggi il suo volto sta cambiando e per riflettere sui grandi mutamenti che interessano anche il consorzio di Cooperative Tassano viene organizzato periodicamente un momento di seminario, di laboratorio, di aggiornamento. Uno di questi, il più recente, ha avuto come tema proprio quello della sostenibilità economica dell'impresa sociale. Come sostenere l'impresa sociale? Innanzitutto lavorando in squadra all'interno dell'impresa e con gli enti assieme ai quali si producono servizi e a cui si chiede aiuto, anche economico. È il primo punto affrontato nel laboratorio dedicato a questo tema che si è svolto al consorzio Tassano di Casarza Ligure. Occorre poi essere credibili e credibili nel tempo. Bisogna arrivare al cuore delle persone. Sì, il cuore delle persone però con delle ragioni, non solo con emozioni. Le persone donano le ragioni per farlo, donano se hanno fiducia e donano se noi teniamo alto quella fiducia nel tempo. E la sfida è appunto quella, quella non solo di chiedere e ricevere ma chiedere e fare poi una strada insieme alle persone che ti sostengono. Oggi la raccolta fondi si fa in tantissime modalità, da quello che è il crowdfunding, che è appunto la raccolta fondi attraverso il web, a strumenti più tradizionali come il 5 per 1000, come il mailing con bollettino che è ancora molto efficace. Una cosa che però vorrei mettere l'attenzione di tante persone è il tema dei lasciti. In Italia quando parliamo di questo tema talvolta ci spaventiamo, quando invece abbiamo tantissime ricchezze che oggi vanno allo Stato perché non hanno eredi. Queste ricchezze possono essere lasciate ai territori, ai loro opere, alle realtà che sono sul territorio. I modi per sostenere una impresa sociale sono molteplici dunque, ma per poterli utilizzare al meglio occorre che il territorio sappia che cos'è e cosa fa l'impresa sociale. Anche questo aspetto è stato messo in luce nel laboratorio che si è tenuto a Casarza Ligure. Nessuno è profeta in patria perché spesso nel nostro agire sicuramente si fanno tante cose buone, tante volte si sbaglia. Quindi a mettere la faccia sul proprio territorio è sempre difficile perché ci vuole una coerenza interna che parte da noi ma che arriva anche a tutti gli operatori coinvolti che deve essere quotidiana. Oggi cosa vuol dire in termini di numeri Gruppo Tassano? In termini di numeri vuol dire 5 consorsi che ognuno diciamo si occupa di un ambito specifico, vuol dire 700 posti di lavoro, vuol dire un'attività verso la persona che è svolta da 2-3 consorsi in particolare con residenze, attività verso anziani, attività educative eccetera, vuol dire la nostra fabbrica sociale che è quella che fa assemblaggio per conto terzi e che occupa 80 persone qui a Casarza. Barche addobbate in maniera spettacolare quest'anno alla Barca Rolata 2016 di Sestri e Levante che ha avuto anche un risvolto solidale. L'edizione 2016 della Barca Rolata di Sestri e Levante va in archivio con un ottimo successo di pubblico. Tanto divertimento per chi si è cimentato nella costruzione di imbarcazioni fantasiose e uno sguardo al sociale. La vittoria è andata alla rappresentazione di Frozen, il film di animazione Disney che ha spopolato fra i bambini e soprattutto fra le bambine. Magari non pensavo di vincere quest'anno però l'anno scorso ho vinto, ho detto faccio una cosa degna dell'anno scorso invece ho confermato la mia vittoria, è andata bene, cosa devi dire? Quando uno vince cosa deve dire? Secondo posto per il gruppo dei ragazzi di Pila che hanno traghettato gli spettatori nel lontano oriente. Ma è sempre piacevole partecipare a una manifestazione del genere, poi è molto bello vedere tutte le persone. Ho notato anche un incremento dei turisti rispetto agli anni scorsi. Tarza piazza per Nomasco Rida che invoca la fine dei sanguinosi spettacoli. Oltre ad essere una cosa legra, fatto con gli amici per divertimento, aveva anche un suo messaggio. Tre volte abbiamo partecipato con la mia famiglia, con gli amici, però mi hanno fatto forse qualcosa di più piccolo nel passato. Questa volta qua mi ha fatto qualcosa di più bello e niente, siamo fatti terzi, va bene così. Ma come detto non è mancata l'attenzione al sociale con la barca di AISA, l'associazione che lotta contro le sindrome atassiche. Ci siamo per combattere questa malattia rara che si chiama tassia. Quindi in un momento come la barca rolata che attira tanta gente, abbiamo costruito una barca che dimostra, si intitola, il libro dei sogni, cioè quelli che sono i nostri sogni da realizzare, che sono i sogni di salute ma anche i sogni di pace. Nello stesso tempo, dato che abbiamo sempre bisogno di fondi, oggi offriamo paella e sangria in cambio di un'offerta ed è una paella buonissima da assaggiare. Sarà il comune di Sestri Levante a farsi carico della rimozione della copertura in amianto crollata dell'edificio in località Balicca a Monte Domenico. La proprietà era stata invitata ad effettuare l'intervento con un'apposita ordinanza ma senza esito. Pertanto la ditta Ecoedil Professional è stata incaricata di effettuare la rimozione e il comune poi si rivarrà delle spese. Questa mattina, alla presenza di un tecnico comunale, di un agente della Polizia Municipale, si è avuto l'accesso alla proprietà mediante l'apertura della recinzione che verrà poi ripristinata al termine dei lavori. Sono quindi iniziati gli interventi per l'eliminazione dell'amianto degradato secondo il piano di lavoro che è stato approvato e lavori che termineranno nella giornata di domani. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli ultimi aggiornamenti. Sfida Europa-Italia Accuse legate alla vicenda della Banca Popolare di Vicenza A Ruen i funerali di Padre Jacques, l'invito a vivere insieme. Il cibo avanzato ora per legge deve essere donato, si definitivo del Senato ad una nuova legge. All'interno di Avvenire, don Michele Falabretti, responsabile della pastorale giovanile della CEI, dice Non sprechiamo l'esperienza della GMG. Mi piacerebbe che nelle singole regioni ci fosse l'occasione di rivedere i percorsi fatti insieme. Dai ragazzi domande dense e forti. Il nostro ufficio garantisce la formazione degli educatori, ma le scelte pastorali vanno compiute nelle singole realtà. Veniamo al secolo XIX, bombe sulla Libia, Putin contro Obama, ISIS le intercettazioni sciocche del Pakistano espulso e sotto invece Brexit in spiaggia, la Liguria-Issa, l'Union Jack, i gestori contro la stretta dell'Unione Europea sulle concessioni bagnanti solidali. All'interno del secolo XIX, l'Ames, l'agenzia entrate non fa ricorso, era lo scoglio più duro per l'omologo del concordato, ora l'eccessione ai giapponesi è più vicina. Accettata la percentuale di rimborso crediti proposta, l'ente incasterà 8 milioni e 600 mila euro sui 19,4 vantati. A Elex porta in dote commesse da parte di Porsche e Skoda. E ancora all'interno del secolo, da Santa Margherita Ligure, nuove marciapiedi, una strada pedonale nel centro di Santa, in via Gimelle, lastre di pietra invece di asfalto, intervento in vista in via Cervetti-Vignolo. La pratica stralcio del progetto di Viale Renuso approderà domani in commissione, questo è l'ITER. Prossimo obiettivo, ripristinare il percorso pedonale attiguo ai Giardini a Mare. Bene, per gli aggiornamenti andiamo in redazione dove oggi per noi c'è Alberto Viazzi. Abbiamo notizie di Cronaca, stava per partire per la Siria ma è stato fermato dalla polizia di Genova in seguito ad indagini svolte in collaborazione con le Digos di Genova e di Varese. Un giovane siriano di 23 anni, residente con la famiglia Varese, disoccupato, era in procinto di partire per unirsi alle fila di Jabhat al-Nusra, una formazione jihadista. L'autorità giudiziaria pertanto, per evitare il pericolo di fuga, ha disposto alla misura precautelare del fermo. Non sono emersi elementi riguardo a possibili azioni violente da attuare in Italia. Il reato ipotizzato dal Pubblico Ministero è quello previsto dall'articolo 270 bis del Codice Penale, ovvero l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale. La polizia inoltre ha allargato le indagini ad altri cinque soggetti stranieri, residenti a Genova e provincia, che avevano stretti rapporti con il giovane siriano arrestato. A fine di chiarire il loro ruolo nella vicenda dell'arruolamento del 23enne nella formazione jihadista, sono state effettuate le perquisizioni personale, informatica e domiciliare e sono stati perquisiti anche alcuni luoghi frequentati dall'arrestato, sia nel centro storico di Genova che a Rapallo. Ancora due brevi notizie di cronaca. A Rapallo i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato in concorso un uomo di 56 anni e una donna di 46 anni, ambedue stranieri e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di un furto di denaro avvenuto lo scorso 13 luglio in una sala giochi. E ancora una donna di 75 anni, oggi verso mezzogiorno a Sestri Levante, ha perso il controllo della sua automobile e si è scontrata con un pullman parcheggiato in via Fasce. La donna, soccorsa dall'automedica del 118 e dall'autoambulanza della Croce Verde di Sestri Levante, è stata portata al pronto soccorso di Ravagna in codice giallo per trauma addominale. Dalla redazione non ci sono altri aggiornamenti. Grazie, terminiamo così questa edizione del TG13, la nostra informazione ritorna questa sera alle 19.15 con Tiguglio Oggi, ma continua sul nostro sito internet, teleradiopace.com. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Grazie a tutti.